Silvio Paolucci, segretario regionale del Partito Democratico, si riparte con l'attività politica in Consiglio regionale, ultimo scampolo di legislatura che non si sa ancora bene quando finirà. Ma io contesto che in questi sei mesi la destra costringe il Consiglio regionale a ragionare di legge elettorale. Dal 4 aprile 2013 questo Consiglio regionale legifera e prende e assume provvedimenti solo in tema di legge elettorale, dapprima abbassando gli sbarramenti, togliendo il voto di giunto, poi portando alla questione delle incompatibilità, prolungando di tre mesi la legislatura già ad aprile, successivamente raccogliendo un parere dell'avvocatura piuttosto ibrido, infatti quel parere sostanzialmente invitava di nuovo il Consiglio regionale a legiferare, il Consiglio regionale approvato e prova ad allungare di ulteriori due mesi la legislatura e di nuovo ad agosto tornano a deliberare e a legiferare sulla, tra virgolette, questione della sottoscrizione da parte dei cittadini delle liste, ovvero qualche furbo consigliere facendosi un gruppo di tre consiglieri evitano la possibilità del cittadino di sottoscrivere una lista. Io credo che siano furbate che costringono purtroppo il Consiglio regionale a legiferare e a ragionare solo di legge elettorale, ma che nulla hanno a che vedere con l'emergenza dell'Abruzzo. Parlando invece di Casa PD, c'è osmosi tra le tensioni del livello nazionale e quelle del futuro congresso regionale in vista anche della definizione delle primarie? Siamo stati bravi a mio avviso in questi anni e soprattutto in questi ultimi 24 mesi a tenere separate le questioni nazionali da quelle territoriali e della nostra comunità. Vorrei ricordare che il risultato delle politiche è certamente penalizzante, ma tutti i risultati che parlano di comunità, i municipi ad esempio, hanno visto largamente il centrosinistra vincenti in questi ultimi 24 mesi. Vorrei ricordare l'Aquila, Montesilvano, Spoltore, Avezzano, Da Ultimo, Sulmona e ancora prima Francavilla, Lanciano, Vasto, Ortona, tutte realtà sopra 15.000 abitanti per non annoverare le altre, anche lì il risultato del centrosinistra è il rotondo, che hanno insediato una classe di governo e il municipale nuova, dove il Partito Democratico è in qualche modo al governo in modo diffuso. Credo che sia quello il modo di operare nella costruzione delle alleanze, soprattutto costruire un progetto che possa ricucire quella distanza, quella lontananza che Chiodi ha determinato verso la propria comunità, verso la nostra comunità. Io credo che sia quello il percorso e che pertanto le questioni nazionali finora hanno fortunatamente poco inciso sul centrosinistra e sulla vita del Partito Democratico abruzzese. Passiamo al calendario del Partito Democratico, quando il congresso, quando le primarie per il candidato presidente e quando le primarie per i candidati sindaci o eventualmente presidenti di provincia, se le province rimarranno in piedi? Io le provo a rispondere tenuto conto che in realtà dovrei partire da un dato che non ho, qual è il giorno in cui si terranno le elezioni in Abruzzo? Al Partito Democratico si chiedono ovviamente cadenze temporali ben precise ed è corretto, ma invece il Presidente della Regione evita, e siamo arrivati ormai a 90 giorni dalla fine di questa legislatura, di indicare in una sorta di sospensione della democrazia in questa regione la data del voto. Tenuto conto di quell'aspetto che non è irrilevante, io credo che a fine anno, laddove si dovesse votare a marzo, terremo le primarie per quanto riguarda il Presidente della Regione, che dentro l'anno certamente terremo le primarie per il Segretario nazionale, tenuto conto che invece i congressi regionali e territoriali e provinciali sono sostanzialmente dipendenti dal fatto relativo alla campagna elettorale regionale. Pertanto se si vota a maggio certamente si faranno, se si voterà a marzo, come io ritengo più opportuno e soprattutto più corretto da un punto di vista dell'ordinamento legislativo, io credo che probabilmente si dovrà ragionare con Roma su come tenere i congressi territoriali, quelli nazionali ci saranno entro l'autunno. Per il voto a maggio invece quando si sceglieranno i candidati e infine chi vorrebbe lanciare come esponente abruzzese del centro-sinistra Silvio Paolucci in Europa? In Europa è una bella domanda, tenuto conto che come sappiamo la circoscrizione è molto grande riguardo il centro-sud e l'Abruzzo è una comunità che a volte esprime e a volte non esprime. Io credo che abbiamo i numeri per poter esprimere anche una candidatura che sia competitiva per le elezioni europee. A me piacerebbe, vista la rilevanza della questione europea, ci sono le elezioni tedesche tra poco e una serie di questioni, politica fiscale e politica monetaria, che poi hanno a che fare con la vita quotidiana di tutti i cittadini, con l'Imu, l'IVA, il patto di stabilità, quello che poi inficia anche la qualità o no del servizio, sono vicende, scelte e temi che hanno a che fare con la questione europea e vorrei tenere distinta la discussione europea così rilevante da quella regionale altrettanto rilevante che ha a che fare anche con la vita delle nostre comunità. Credo che noi abbiamo i numeri, abbiamo i numeri per avere più di una opportunità sulla presidenza della regione, abbiamo i numeri per avere più di una opportunità anche per una candidatura valida a livello europeo.